Amici di Battista70Fono, oggi vi presento una bella cover Ultra Slim TPU per iPhone 7 Plus. Sono soli 0,3 mm, flessibilissima. Andiamo a infilarla. Ok, procediamo. È veramente sagomata alla perfezione. Possiamo vedere che qui possiamo, volendo, chiudere anche l'ingresso Lightning. Andiamo a metterlo. Come vedete chiude qui. Non che sia indispensabile, dato che comunque è certificato IP67. Qui i fori sono ben allineati, tanto questo è solo estetico, mentre invece questo è funzionale. Possiamo vedere che la cam è perfettamente sagomata, lascia aperto tutto, non va a coprire niente. Inoltre, cosa succede? Va a fare un po' di spessore, di modo che se appoggiate il vostro iPhone a pancia in su, la cam non si graffia. E c'è un minimo di protezione anche laterale, come potete vedere, perché la cover sporge leggermente, quindi volendolo potete appoggiare anche a pancia in giù. Assolutamente non dà nessun tipo di problema nella regolazione del volume, quindi potete alzarlo, potete abbassarlo tranquillamente. I tasti sono coperti, ma sono ben raggiungibili, tranne qui il tasto per la vibrazione, che come vedete è scoperto. Invece da questa parte il tasto di avvio, spegnimento, stand by, è coperto, ma funziona come si deve. Come vedete si spegne tranquillamente. Ovviamente non c'è nessun tipo di problema nello sbloccaggio, dato che la cover comunque qui non va ad interferire. Inoltre, cosa fondamentale, non va ad aumentare le dimensioni, che già sono di per sé piuttosto imponenti, come ben sappiamo, e conferisce un grip migliore. Il cellulare grosso, il cellulare pesante, il cellulare è in metallo e può scivolare. Con questa cover invece non vi scivola assolutamente. Una cover molto economica, molto utile, che lascia inalterato l'aspetto del vostro iPhone 7 Plus. Abbiamo lo stesso tipo di cover, ovviamente dimensioni diverse, per iPhone 7. E li trovate come sempre nel nostro shop a prezzi veramente modici. Con questo concluso, un saluto da Loris, Adias Battista 70 per Battista 70 Phone.